I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un ventenne per detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lunedì sera un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso di servizi di controllo del territorio, ha effettuato una perquisizione domiciliare nell'abitazione del giovane, nel centro storico della città. In casa gli agenti hanno subito avvertito un odore persistente e in diversi punti hanno trovato 35 involucri di stagnola contenenti marijuana e altri due involucri con cocaina e hashish. Sequestrato anche materiale utilizzato, a quanto pare, per il confezionamento della droga. L'arrestato è stato condotto in questura per le formalità di rito e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, è stato successivamente posto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'interno dell'abitazione era presente anche un ragazzo che è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il locale tribunale per i minorenni per porto di armi o oggetti atti ad offendere, poiché è trovato in possesso di un coltello.